Le cronache di Peppa Pig Saltiamo insieme! Oggi Peppa balla al ritmo del suo video musicale preferito Su, giù, gira in tondo, tieni il tempo e poi... Dinosauri! George! Sto ballando! I dinosauri li guardiamo dopo! No! Peppa Pig! George! No! Metti la canzone! Niente dinosauro! Dio! 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 Dinosauro! Non riuscite a mettervi d'accordo su cosa guardare? Allora niente televisione! Ma papà! Venite a tavola! È ora di pranzo! Il pranzo lo mangio prima io! È ora di pranzo! E Peppa e George ora stanno litigando per avere l'ultima carota! L'ho vista prima io! Non c'è bisogno di bisticciare! Potete fare a metà! La metà di George è più grande della mia! Mamma e papà Pig stanno escogitando un piano segreto! Peppa sta giocando all'ora del tè! Gradiresti altro tè? Oh! Con piacere signorina orsa! E George gioca con il suo dinosauro! George i dinosauri non bevono il tè! Potete giocare voi con George! Sta rovinando il mio gioco! Mi dispiace Peppa ma siamo un po' impegnati! Stiamo costruendo un fortino! Possiamo giocare nel vostro fortino! Gioco! Mi dispiace Peppa ma questo fortino è solo per gli adulti! Mamma Pig e papà Pig hanno costruito un fortino che è solo per gli adulti! Ho un'idea! Possiamo fare un fortino ancora più grande solo per Peppa e George! Dinosauro! E per i dinosauri e gli orsacchiotti! Ora Peppa e George stanno costruendo un fortino tutto per loro! Ho funzionato! Facciamolo ancora più grande! Il loro fortino è molto grande! C'è posto per i dinosauri e per ballare e ci sono tante carote da condividere! Era delizioso! Mamma Pig! Oh caspita! Che fortino meraviglioso! Io e George l'abbiamo costruito insieme! Ottimo lavoro di squadra! Possiamo entrare? Mi dispiace! È solo per Peppa e George e i dinosauri e gli orsacchiotti! Che peccato! È un posto tutto vostro dove divertirvi insieme! Ve l'avevo detto! Peppa e George adorano giocare insieme! e formano davvero una bella squadra! Dov'è la mia paperella? La signora paperella non c'è! L'ho liberata dalla sua scatola e dovete trovarla prima che... si perda! Oggi mamma Pig fa finta di essere un cattivo! Mamma, perché porti una maschera? È un gioco, Peppa! I miei vecchi giocattoli da spia vi aiuteranno a diventare assottissimi agenti segreti! Ora anche Peppa e George sono agenti segreti! Agenti! la vostra missione è trovare la signora paperella prima che... si perda! 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 Sì, signore! Troveremo la signora paperella! Vero, agente G? Non se potrò impedirlo! Cerchiamo qua dentro! Non vedo niente! Usa questi visori da spia, agente P! Grazie, agente papà! I visori da spia aiutano agente P e agente G a vedere al buio! Signora paperella! Sei qui dentro? Ma la signora paperella non è qui! Forse è fuori, George! Le paperelle adorano stare all'aperto! Sì, cercate fuori! Se riuscite a farvi strada! Peppa e George devono strisciare dentro i tunnel per uscire di casa! Vi aiuterò ad attraversare i tunnel con questo apparecchio di comunicazione ultrasonica! È un walkie-talkie! Grazie, agente papà! Di raga a sinistra! Di raga a sinistra! Ora a destra! Ci siete quasi! Ce l'abbiamo fatta! Oh! Ma non è nemmeno qui fuori! Magari al piano di sopra! Gli agenti segreti sono arrivati in camera di peffa! Oh, eccola! Ma è in trappola! Sì, in trappola dietro i miei raggi laser! Caspita! Fate attenzione, agenti! Andiamo, agente G! Dobbiamo procedere con molta... Si può fare anche così, suppongo! L'agente P e l'agente G hanno salvato la signora Paperella! Per questa volta avete vinto agenti segreti! Ma non finisce qui! Oh cielo! Cosa è successo? Sembra che abbiate battuto in astuzia un personaggio cattivo! Peppa e Giorgia adorano giocare a fare gli agenti segreti! Mamma, 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 c'era un cattivo e ha preso la signora Paperella! Ma l'abbiamo ritrovata usando visori e tunnel e c'erano dei laser! E mamma e papà Pig adorano giocare insieme a loro! Oggi Peppa e Giorgia stanno cercando di costruire uno scivolo! Cosa fate? Abbiamo costruito uno scivolo, papà! Ma non è molto scivoloso! Ah, quando ero piccolo crei un grandissimo scivolo sulla collina di fronte casa! Quello sì che era scivoloso! Oh, sto arrivando! Sono in ritardo per la riunione dei vigili del fuoco! Mamma, mamma, papà costruirà un grande scivolo sulla collina! Beh, no, ho solo detto... Ottima idea! Devo scappare! A più tardi! Allora è ufficiale! Peppa, Giorgia e papà Pig usano dei lunghi teli per costruire lo scivolo! Non è scivoloso! Ah, allora ci serve del sapone per piatti! E dell'acqua! Tadà! Oh, prendilo! Oh, prendilo! Deve essere scivoloso! Il sapone per piatti e l'acqua hanno reso il telo molto scivoloso! Oh, proprio come me lo ricordavo! Facciamo un altro giro! Tutti si divertono molto sullo scivolo insaponato! Oh, ci so ancora fare! Forti, forte, Taddi! E tutti insieme! Oh, oh! Oh! Ma adesso la collina è così scivolosa che nessuno riesce a risalire! Oh, cielo! Mamma Pig è tornata dalla riunione dei Vigili del Fuoco giusto in tempo! Grazie del passaggio! Oh! C'è nessuno! C'è nessuno! Ma che cosa ci fate laggiù? Siamo bloccati! Siete infangati? No! Cosa è successo? Qualcosa con il fango? Siamo bloccati! Sembrano bloccati! Bloccati? Giusto! Andiamo a soccorrerli! Ops! Aggrappatevi all'idrante! Grazie! Non c'è problema! Siamo qui per questo! Fermiamo l'idrante! Ops! Siamo di nuovo bloccati! A tutti piace lo scivolo insaponato! Soprattutto quando c'è una pozzanghera di fango in fondo allo scivolo! Oggi tutti sono alla festa di paese! Peppa sta partecipando a una corsa a tre gambe con Danny Cane! Ma Danny è ansioso di vincere il premio! Una deliziosa mela caramellata! Si rallenta Danny! Si! Non riesco a tenere il passo! Peppa! Bravi! Il ginocchio! Oh Peppa! Ti sei fatta male! Adesso ti portiamo alla tenda di primo soccorso, Peppa! Proviamo ad alzarci! mi dispiace peppa non volevo non importa non preoccuparti tenni gli incidenti succedono peppa è arrivata alla tenda di primo soccorso dove la signorina coniglio può controllare il suo ginocchio oh no cos'è successo al tuo ginocchio? sono caduta e mi sono fatta male oh deve essere stato un bello spavello e non ho vinto la mela caramellata oh grazie George! sei molto gentile George allora vediamo cosa c'è nel mio kit è dove tengo tutto il necessario affinché un ginocchio come il tuo torni come nuovo per prima cosa la ferita deve essere pulita ci spruzzo un po' di disinfettante va bene? potrebbe bruciare un po' ma ti prometto che passa subito va bene contiamo fino a tre e facciamo un bel respiro uno due tre un bel respiro ecco fatto già fatto si sei stata molto coraggiosa peppa e adesso ci serve solo un cerotto per coprire la ferita quale preferisci? ne ho tantissimi non preoccuparti George gli incidenti succedono posso avere questo per favore? certo e ecco fatto il ginocchio dovrebbe essere guarito oh il ginocchio non mi fa più male grazie signorina coniglio oh no scusa George non preoccuparti peppa gli incidenti succedono che ne dite di andare a cercare un'altra mela caramellata o due peppa è molto contenta che il suo ginocchio sia guarito tutti sono contenti che peppa stia meglio oggi peppa e la sua famiglia sono a un ristorante di sushi il sushi è un delizioso piatto giapponese non c'è nessuno a prendere le ordinazioni penso che il ristorante sia chiuso mamma non è chiuso peppa possiamo servirci dal trenino e ordinare da bere da questo schermo così così e dai volevi ordinare 17 succhi di frutta? spero che abbiate sete ecco che arriva il trenino a George piacciono tutti i piattini verdi come il suo tinosau tinosau peppa pensa che tutti i piattini colorati abbiano un aspetto delizioso ne prendo uno blu e uno rosa oh e uno arancio prendi quelli che ti piacciono peppa va bene grazie trenino dei sushi magari non proprio tutti quelli che ti piacciono due o tre dovrebbero bastare ciao ciao trenino dei sushi c'è tutto buon appetito cosa sono quelli mamma? sono bacchette sono le posate che si usano in giappone dove ha origine il sushi per voi ci sono delle bacchette speciali per aiutarvi a imparare se siete in difficoltà vi facciamo vedere può essere un po' complicato ops a me non serve aiuto grazie George oh ti viene naturale facciamo un video per nonno e nonna pig c'è un telefono in fuoco sul treno papà pig ci penso io no mi è sfuggito scusate scusi scusate scusi mamma e papà pig si sono fatti sfuggire il telefono magari uno degli chef lo troverà prova con queste sono molto più facili il suo telefono mamma pig ha ritrovato il suo telefono avvolto nel riso grazie cuochi caspita usare le bacchette mi ha fatto venire sete peppa adora mangiare al ristorante di sushi per fortuna è arrivato da bere ma tu ti piace mangiare al ristorante di sushi fermati dove è il coperchio? oggi peppa e la sua famiglia sono alla fiera estima ma tutto bene il signor toro? oh ma ciao cosa posso prepararvi? abbiamo ogni tipo di bibita possibile e immaginabile ho delle bibite colorate ho tutti i colori dell'arcobaleno oh abbiamo frullate frappè bubble tea tè freddo e succhi di frutto freschissimi fatevi avanti il signor toro offre moltissime bibite dal suo chiosco avete già scelto cosa vorresti ordinare? possiamo avere due frappè alla fragola per favore arriva subito io vorrei un succo di carata per favore un tè freddo alla mesca per favore posso avere un bubble tea decaffeinato al mango con latte d'avena senza zucchero per favore? sì sì penso di sì vediamo un bubble tea alla pesca per Rebecca penso che fosse un succo oh già e un tè freddo alla carota per candy? il signor toro è confuso da tutte le ordinazioni questo laggiù questo lo metto qua premi il pulsante vieni da qui scuoti in là dov'è il coperchio? il signor toro ha fatto un passo più lungo della gamba mi arrendo è troppo difficile scusate non c'è oggi niente aspetti possiamo aiutare? vero papà? aiutare? oh sì ma c'è è molto gentile da parte vostra mamma dice sempre la forza fa l'unione il proverbio è l'unione fa la forza è quello che ho detto mamma bene possiamo cominciare allora e via Peppa e la sua famiglia aiutano il signor toro con le ordinazioni voi due preparate la frutta e noi adulti la mettiamo nel frullatore sì signor toro frutta 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 tagliamo la frutta per succhi deliziose tagliamo la frutta ecco qua ecco qua tutte le bibite sono finalmente pronte grazie signor toro non è quello che ho ordinato signor toro oh no ho sbagliato tutte le ordinazioni no no è davvero deliziosa ma non è quello che avete ordinato forse è più bravo a fare bibite a sorpresa signor toro sai che forse hai ragione Peppa in tal caso fatevi avanti venite rinfrescatevi con una deliziosa bibite a sorpresa Peppa adora preparare bibite a sorpresa e tutti gli altri sono entusiasti di gustarle oggi mamma pecora ha organizzato una festa in giardino altro te mamma pig? con molto piacere mamma pecora sciù sciù no grazie non sei il benvenuto è una festa molto elegante accanto alla festa in giardino Peppa e i suoi amici stanno facendo una battaglia d'acqua e il vino fate attenzione agli schizzi non tutti vogliamo giocare con le pistole ad acqua vero? non lo so scusa mamma andiamo Peppa scusa chi vuole ancora insalata? abbiamo quasi finito i palloncini ci siamo quasi adesso me la paghi dite ciao al mio amichetto lancia schizzi ciao amichetto lancia schizzi Susi mamma pecora sta facendo del suo meglio per mantenere la sua festa in giardino elegante avresti delle carote? e asciutta o un ombrello non fare caso a me faccio solo un rifornimento ma la battaglia con le pistole ad acqua sta diventando sempre più grande ma ciao cowboy ciao anche a te cowboy e sempre più fitta di schizzi avete già mangiato qualcosa? servitevi prima che il cibo sia finito oh cielo e stai impadendo l'intero giardino oh grazie persino la festa di mamma è pronto Susi evviva! meno male non ha piovuto il meteo aveva previsto pioggia per oggi oh sapevo che sarebbe uscito il sole no non volevo cercavo solo di... volevo solo organizzare la festa in giardino perfetta scusa mamma mi sono data tanto da fare per renderla perfetta mamma quando sarebbe bastato comprare più palloncini mamma pecora adora le feste in giardino eleganti mamma pecora piacciono anche le battaglie d'acqua ciao peppa e la sua famiglia stanno ordinando da mangiare in un negozio di panini peppa qui non si ordina direttamente al banco il panino che si sceglie ma si usano tutti questi schermi speciali oh scusate perché non provi a ordinare un panino peppa? puoi scegliere gli ingredienti da mettere nel panino toccando le immagini ho tanta tanta fame vorrei un panino super super grande per favore lattuga pomodoro e tanto formaggio peppa sta aggiungendo tanto formaggio e il suo panino diventa sempre più grande capisco che tu abbia fame peppa ma forse ci hai messo troppo formaggio va bene ora tocca il comando invia così lo chef può iniziare gli chef hanno ricevuto l'ordine che ha fatto peppa e stanno lavorando per prepararlo sembra davvero buono e formaggioso ora tocca a george scegliere il suo panino guarda il menù per i bambini ha anche una sorpresa speciale sorpresa George non vede l'ora di scoprire la sua sorpresa ora tocca a mamma pig ordinare io ordino il solito pomodori, funghi, sei cipolle sott'aceto due pete di formaggio, olive senza cetriolo metà peperone rossa e un pizzico di salsa piccante hai detto per caso cetriolo? sorpresa! sorpresa! no! sorpresa! sorpresa! George! no! beh in fondo conoscere i nuovi sapori fa sempre bene peppa e george si stanno gustando il pranzo mentre aspettano il panino super speciale della mamma è molto formaggioso oh! dinosaurio! sorpresa! il panino di mamma pig è in preparazione è molto più grande di quanto pensasse oh! mamma è pronto! oh! com'è grande non penso di riuscire a mangiarlo da sola ne volete un po'? oh! è un pochino piccante ma molto gustoso è il mio nuovo panino preferito tutti amano il loro panino anche se non è proprio quello che avrebbero ordinato ti ho trovati! peppa e i suoi amici giocano a nascondino in giardino ti ho trovata Susi! questa scatola è molto grande anche io voglio nascondermi nella scatola papà! papà! guarda cosa abbiamo trovato! il signor toro deve venire a ritirarla per portarla a riciclare ma potete giocarci nel frattempo troverò un altro posto dove mettere queste ho un'idea! trasformiamo la scatola in un castello Peppa e i suoi amici si mettono al lavoro per costruire un castello di cartone ciao! c'è un portone e ci sono tanti fiori è una torre per avvistare i draghi ecco ne uno che arriva il signor toro è arrivato a ritirare il cartone per portarlo a riciclare chi ve l'ha? per favore? oh! il signor toro! ma... sua maestà! sono venuto a ritirare questa scatola di cartone non è una scatola è un castello ma certo! è un castello magnifico ma... secondo me si può renderlo ancora più bello il signor toro dà il suo contributo per migliorare il castello dovremmo mettere una televisione enorme in salotto arriva subito! sì! buonasera! benvenuti al telegiornale oggi va tutto alla perfezione! per una volta! ora possiamo cucinare... una torta! una torta! la stanza della bozzanghera di fango è pronta! Peppa e i suoi amici continuano a costruire e a costruire un lavoretto coi fiocchi! bello morbido! proprio buono! facile facile! come bere un bicchier d'acqua! oh ma guarda! ciao papà! ti piace il nostro castello? è bellissimo Peppa! ma il cartone è per il signor toro! che cosa dirà? a dire il vero! mi piace molto! mi piace molto! in tal caso allora c'è posto anche per me? a tutti piace giocare nel castello di cartone! consegna per mamma pig! oggi mamma pig ha ricevuto un pacco! oh grazie tante! so esattamente di cosa si tratta! e poi i giorni saranno entusiasti! mamma pig ha ordinato una macchina per ghiaccioli! ed è... è a forma di pinguino! ho pensato che potremmo usare la frutta del giardino dei nonni per fare dei ghiaccioli salutari e molto buoni! salvi signor pinguino! come funzioni? adesso mi ricordo! ne avevo uno alla tua età! devi solo... mamma pig non si ricorda come funziona la macchina per i ghiaccioli! forse è meglio leggere le istruzioni! ah! giusto! ci serve del ghiaccio per fare i ghiaccioli! il ghiaccio va qui e poi si gira questa manovrella! si sente... tritare! adesso si tira su lana! oh! il ghiaccio è diventato soffice! ora aggiungiamo la frutta! mmm! lamponi! li adoro! mmm! poi versiamo la miscela di ghiaccio e lamponi negli stampi! George ha i bastoncini! serviranno per tenere in mano il ghiacciolo! ben fatto, George! e ora dobbiamo solo aspettare che si congelino! facciamo altri ghiaccioli mentre aspettiamo! sì! mmm! mirtilli! adoro anche questi! per me anche! prego! e alla banana! Peppa e la sua famiglia passano la giornata a fare tantissimi ghiaccioli! e divertendosi molto! ma a un certo punto... oh! abbiamo finito la frutta! come facciamo adesso? si può! ho portato della frutta fresca del nostro giardino! non è che per caso vi serve per qualche deliziosa ragione? oh! oh! siiii! siiii! mi dispiace ma non possiamo continuare a fare i ghiaccioli! oh! perché no? perché prima dobbiamo fare spazzo in cridle mangiando intanto questi! siiii! 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 Peppa adora fare i ghiaccioli! soprattutto dei deliziosi ghiaccioli alla frutta! benvenuti agli annaffiatoi galleggiante! oggi Peppa e la sua famiglia sono a una nuova attrazione al parco acqua! la parca vi condurrà attraverso un giardino fiorito e voi dovete annaffiare tutti i fiori! oh! e come possiamo farlo? con questo? oh! oh! molto meglio dei nostri annaffiatoi! oh! 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 posso provare mamma? oh! divertimento! eh! 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 ragione! io mi sento in pace dell'universo! oh! Peppa e George devono usare gli annaffiatoi per buttare l'acqua ai fiori che ne hanno bisogno! oh! ti aiuto io George! è un gioco difficile! eccole uno! pronti e... eh! eh! oh! ben fatto George! George ha spruzzato un fiore al primo tentativo! è sempre più difficile! non importa se ti sbaglio! oh! 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 ma tutto bene Peppa? George sta spruzzando tutti i fiori e io no! so che è difficile ma non c'è niente di male se George è più bravo in qualcosa! ma io sono più grande! ma tu sei più veloce di me e soffri di più isoletico! a volte l'età non conta ciò che conta è lavorare insieme! quando vogliamo insieme soffri ancora di più isoletico! va bene! oh! George si è un po' spaventato... Tranquillo George! è solo un gioco! e tu? basta così fiore! non sei stato per niente carino con il mio fratello! e Scientific 市 eweed! no! ce l'ho fatta! Forza George! dobbiamo lavorare insieme sei proprio bravissimo ce l'abbiamo fatta bravissimi Peppa e Giorgio Peppa e Giorgio hanno annaffiato tutti i fiumi adorano gli annaffiatoi galleggianti vedete? formate davvero una bella una bella squadra sì! oggi Peppa e Emily Elefante sono in visita all'acqua park l'acqua sembra davvero alta sì! sarà divertente! andiamo! la sicurezza è molto importante quando si ha a che fare con l'acqua quindi dovrete indossare questi giubbotti di salvataggio la prudenza non è mai troppa! siamo pronte signorina coniglio bravissime! seguitemi tutti quanti divertitemi! staremo a guardare! il primo ostacolo è un ponte molto traballante vado per prima guarda! così! Peppa sta correndo il più velocemente possibile ma... è caduta in acqua è caduta in acqua prova anche tu Emily è divertentissimo sembra molto traballante bravissima Emily sono infatti Emily pronta attenta via è molto scivoloso prova a usare la corda per arrampicarti così bravissima Peppa tocca a te Emily è troppo alto prova a scivolare da seduta Emily scendi piano piano così posso farcela? posso farcela? bravissima! l'ultimo ostacolo è un percorso su dei grossi palloni gonfiabili magari lo faccio piano piano questo percorso come Emily sì! ci sono quasi riuscita ottimo tentativo Peppa puoi farcela Emily andare piano piano è stato un successo nei due ostacoli precedenti forse dovrai andare veloce come Peppa pronta? attenta via! bravissima! ma andare velocemente è la strategia perfetta per i palloni gonfiabili vince la volta! sì! è molto curadone ho troppa paura sì! eccomi che arrivo! il gusto è la fragola è una giornata molto calda e la signorina coniglio sta vendendo ghiaccioli e usando una ruota che gira per scegliere il gusto grazie signorina coniglio fa così caldo che non c'è neanche più fango nelle bozzanghere ghiaccioli! ghiaccioli! mamma! papà! possiamo avere un ghiacciolo per favore? non vedo perché no vorrà dire che ne avremo uno anche noi tutti vogliono uno dei ghiaccioli speciali della signorina coniglio puoi scegliere un gusto o puoi girare la ruota posso girare la ruota per favore? sì! oh! banana! oh che buono! grazie! chi è il prossimo? cioccolato! grazie signorina coniglio guarda Danny sei finito tra due gusti limone e lampone tocca a te Susy devo per forza girare la ruota posso averne uno al cioccolato per favore? ma certo! Susy sa cosa vuole ed è giusto così un cono al cioccolato in arrivo oh no! abbiamo finito il cioccolato oh! non fa niente ho un'idea puoi avere il mio ghiacciolo al cioccolato grazie Peppa sei stata molto gentile Peppa anche io sono gentile puoi avere il mio ghiacciolo Peppa e io sono gentilissimo puoi avere il mio ghiacciolo Pedro grazie ecco tutti vogliono essere gentili e offrire il loro ghiacciolo che ne dite se ne faccio semplicemente un altro? torno subito la ruota della signorina coniglio è molto veloce ma anche la signorina coniglio è... torna qui ruota torna qui rallenta 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 va troppo caldo oh sono tornata devo solo riprendere fiato la signorina coniglio ha molto caldo dovremmo dare i nostri ghiaccioli alla signorina coniglio per aiutarla a rinfrescarsi ecco qua i ghiaccioli si sono sciolti al sole sarà meglio che prepari altri ghiaccioli e che li mangiamo prima che si sciolgano a Peppa Pig piace mangiare un ghiacciolo quando fa caldo a tutti piace un ghiacciolo quando fa caldo marmellata uova pomodori noce di cocco e gelatina oggi è la festa della mamma e Peppa e Giorgio stanno preparando una colazione molto speciale per la loro mamma avete iniziato a preparare senza di me che cosa prevede il menù piccoli chef? tutto quanto con pari tostato ora diamoci da fare bravo George forse un po' troppo attento George dobbiamo preparare una grande colazione speciale per la mamma per mostrarle quanto le vogliamo bene proprio così eh sì è un pane è ora della marmellata George mamma ama la marmellata sul pane la marmellata piace molto anche a George mamma Pig è molto felice di fare colazione a letto ma a quanto pare la colazione si sta un po' bruciando il pane il pane papà un secondo Peppa magari questa fetta la mettiamo sotto le altre ottima idea a George piace così tanto la marmellata che ha mangiato tutte le fette preparate per fortuna ci sono molte altre cose uova e fagioli uova e fagioli pomodori cetrioli formaggio e mostarda gelatina un cocco intero mammelata sì forse dovrei andare a controllare uno due tre una festa della mamma che bella sorpresa ti abbiamo preparato un toast universale c'è di tutto tranne la marmellata mamma Pig adora la colazione a letto che le hanno preparato anche senza marmellata oggi c'è una festa da ballo sull'autobus delle feste e tutti non vedono l'ora di ballare beh quasi tutti vieni a ballare Susi no grazie va tutto bene sì è solo che non so come si balla questa canzone nemmeno io mi sto solo muovendo a tempo con la musica sì scusa prova a saltare Susi Danny cane adora ballare questo tipo di musica proviamo tutti insieme vieni Susi stai ballando Susi prova questa mossa sì sei bravissimo Danny non penso di riuscire a imitarlo però mi concede questo ballo sull'autobus con piacere Peppa balla sui piedi di papà Pig durante un letto Susi se balli sui piedi di tuo papà non c'è bisogno di sapere come si balla ma io non ho facciamo un altro giro conosco questa canzone ciao allora questa canzone è perfetta Susi perché ti dice come la devi ballare dobbiamo semplicemente seguire le istruzioni della canzone ti faccio vedere su giù giù gira in tondo tieni il tempo e poi se sei pronto a fare festa balla insieme a noi proviamo insieme su giù gira in tondo tieni il tempo e poi se sei pronto a fare festa balla insieme a noi Su, giù, gira il mondo, tieni tempo e poi Se sei pronto a fare festa, balla insieme a noi Sì! Ce l'hai fatta! Sì, grazie Peppa! Adesso tutti insieme! Sì! Su, giù, gira il mondo, tieni tempo e poi Tutti adorano la festa da ballo E Susi adora ballare con i suoi amici Sì! Oh mamma, mi scappa forte e forte la pipì Mamma, non ce la faccio proprio più! Tranquilla Peppa, c'è un bagno proprio qui Oggi Peppa ha bisogno di andare in bagno E questo è un bagno molto speciale E dov'è il water? Oh, Peppa Non so proprio dove sia Eccolo! Serve anche a te il bagno, Giorgio? No! Ecco fatto! E adesso mi lavo le mani Fresche e pulite Vediamo come mandare giù l'acqua Il pulsante sembra questo Peppa, per sbaglio, ha acceso l'asciugamante Forse era quest'altro O forse questo Mamma, per favore, possiamo andare in bagno? È rimasto solo un pulsante da premere Lo sciacquone deve essere questo Ecco fatto! Senti, Giorgio, sei proprio sicuro di non dover andare in bagno prima di uscire? No! Benissimo, andiamo allora Ma mamma, abbiamo fatto un disastro qui! Tranquilla, questo è un bagno molto particolare L'unica cosa che dobbiamo fare è uscire E come per magia Il bagno, come per magia, si pulisce da solo Questo bagno è fantastico! È fantastico! Peppa e la sua famiglia stanno tornando a casa Oh, ma Giorgio comincia a lamentarsi Oh, che succede, Giorgio? Devi andare in bagno? Ma ci siamo appena stati in bagno Va bene, ci ritorniamo Speriamo che tu possa resistere Giorgio ha proprio bisogno di quel fantastico bagno Tutti hanno proprio bisogno di quel fantastico bagno Hai il microfono spento, non ti sentiamo Oggi, mamma Pig ha una videochiamata Va bene, mettiamoci un punto Nel frattempo... Scusate, spegno il microfono solo un attimo e torno da voi Ciao mamma, ci annoiamo, giochi un po' con noi! Sì! Non posso, mi dispiace, ho una videochiamata Vogliamo provare anche noi? Prova a chiedere a papà se ne organizza una per voi Andiamo, Giorgio! Papà Pig organizza una videochiamata con nonna Pig e nonno Pig Ciao Peppa! Ciao George! Ci sto io davanti allo schermo, Giorgio! La la! La la la! George! Riesci a sentirmi? Dove è andata Peppa? Sono qui! Peppa sta chiamando dal tablet di papà Pig Nonna, nonno, nonno, mettiamoci un punto Mettiamoci un punto? In che senso? Deve essere il pulsante con i tre puntini Non era quello! Nonno Pig ha attivato un filtro Siete robot! E George è un pupazzo di neve E io sono il mostro Mangia Spaghetti Ci sono tanti filtri divertenti da provare Ora ci siamo! E adesso dove vai Peppa? Ora ci sono due Peppa nella videochiamata Ciao! Da qui si sente un po' di eco Peppa Andiamo a chiamare la mamma Attiva l'audio Persino io l'ho imparato Ops! Scusatemi tanto Dov'è papà? Sono qui Dinosauri! Adesso ci sono tutti in videochiamata E sono tutti dinosauri L'accento ragazzi! È ora di interrompere Ciao nonno! Ciao ciao! A presto! Ciao! Forse per oggi Possono bastare gli schiermi Sì! Mettiamoci un punto! Stasera Mamma e papà Pig Vanno a cena fuori Per la festa di San Valentino Mamma Pig Ha prenotato un taxi È quasi arrivato! Evviva! Evviva! La vostra auto vi attende Mamma Pig Ha prenotato un taxi speciale Per sbaglio Si chiama Limousine Un allimo Che romantica E solleticante Dove andiamo signore e signori? A casa di nonna e nonno Pig La ringrazio signorina coniglio Peppa e George mangeranno l'alto Mangiare! Va bene Calmati! Questa musica mi ricorda a Venezia Fu un viaggio veramente meraviglioso Ora è la disco Nimo! Questo non c'era a Venezia Vuoi un cioccolatino, Mamma Pig? Non ti dispiacerà? Potremmo mangiarne qualcuno? Cioccolato! Ehm... Va bene Ma non troppo Peppa e George Adorano il cioccolato Forse un po' troppo Allora mangerò questo qui Possiamo rimetteri la disco music? Solo fino a casa di nonno e nonna Ti prego Ciao! Ciao! Felice San Valentino ballerino a tutti! Balliamo forza! Oggi è un San Valentino ballerino! Come quella volta a Parigi nonno Pig Tutti amano festeggiare il giorno di San Valentino Ma mamma e papà Pig preferiscono fare un giro insieme sulla disco Nimo Oggi Peppa e i suoi amici visitano la fabbrica del dentifricio Ed è così che si fa il dentifricio Tutto chiaro? Oh no! Oh no! Oh! Beh è più importante sapere come ci si lavano i denti Seguitemi! Oh no! La fabbrica del dentifricio ha giochi molto belli per insegnare a tutti come lavarsi i denti Posizionate il tubetto Poi premete il pulsante per far uscire il dentifricio necessario E qual è la quantità giusta? Mi basta poco poco! Bravissimi! Volete provare? Sì! Una porzione di dentifricio perfetta! Ben fatto! Peppa è bravissima a questo gioco Ma George è un po' confuso Non così, George! Ti aiuto io! Ma messo sullo spazzolino, non in bocca! Bravissimi tutti quanti! Venite con me! Ora spazzoliamo i denti per farli risplendere Dobbiamo eliminare tutto il cibo Via 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 via! Fatto! Bene! Ora tocca a voi! Forza con quello spazzolino! Fatemi brellare! Peppa è brava anche a questo gioco Ma George è di nuovo confuso No, George! Devi spazzolare i denti giganti Non i tuoi! Guarda! Fai così! Bravissimi! I denti adesso sono di un bianco splendente! Rimane solo una cosa da fare Lo spazzolino va sciacquato sotto l'acqua Così! Pronti? Attenti! Questo gioco piace molto a tutti Ma George sta puntando l'acqua verso se stesso Puntala da quella parte, George! Verso lo spazzolino! Perché piangi, George? Ah! Vuoi lavare i tuoi di denti? George non era confuso Voleva semplicemente lavarsi i denti Tranquillo, George Ci daranno in omaggio spazzolini Dentifrici e altre cose Vero, signorina coniglio? Oh, sì! Degli omaggi! Ma certo! Come no! Aspettate un momento! Ci ho messo un po' di cose! Ecco qua! Grazie! Grazie, signorina coniglio! Mi raccomando, George Ne basta poco poco Poi spazzoli i denti e sciacquo A George piace lavarsi i denti A tutti piace lavarsi i denti Signorina coniglio! Aspetta, abbiamo altre lettere! Oggi, Peppa e George giocano a fare i postini Hanno delle lettere molto speciali da inviare Salve! Devo consegnare quelle lettere? Sì, per favore! Sono lettere speciali per mamma e papà Pig Peppa e George hanno persino creato dei francobaldi speciali Oh! Siete giusto in tempo per la raccolta di oggi Mettetele nella buca delle lettere Evviva! Ora posso portarle insieme a tutte le altre lettere Ho un bel po' di consegne da fare Vi andrebbe di aiutarmi? Oh! Possiamo! Non vedo perché no! Avete l'uniforme giusta! Edio! Peppa e George sono entusiasti di fare i postini Proprio come la signorina coniglio Per prima cosa vogliamo dare al centro di smistamento Qui è dove separiamo tutte le lettere Così sappiamo dove consegnarle Sì! Perciò abbiamo macchine come queste che ci aiutano Dinosaur! Quelli sono francobaldi speciali che Peppa e George hanno creato per le loro lettere Signor Zebra Hanno la super super priorità Abbiamo un'emergenza consegna Codice rosa! Tutti si affrettano a preparare le lettere di George e Peppa Per una consegna più rapida possibile Andiamo! Abbiamo un bel po' di tappe da fare Andiamo! Peppa e George si divertono molto a fare le consegne con la signorina coniglio Alcune buche sono un po' troppo alte E altre hanno una forma strana Ma ogni lettera arriva al suo destinatario Finché non ne rimangono solo due Deve essere la posta Vado io Caspita! Questi postini hanno un aspetto familiare Ma sono Peppa e George! Mi hanno aiutato a consegnare la posta tutto il giorno Abbiamo delle lettere speciali con francobaldi molto particolari Sono proprio speciali Peppa e George adorano fare i postini E mamma e papà Pig adorano le loro lettere speciali Oggi Peppa è in maschera per la festa a tema spazio di Susy Pecora Sull'autobus delle feste Un altro atterraggio sicuro? Ci sono tante cose da fare sull'autobus Ha visto Susy? Sono io Susy! Non sono un'aliena vera E io sono un robot E io una stella E io una principessa dello spazio Sì Susy! Benvenuti a bordo tutti quanti! Siete pronti per la festa nello spazio? Sì! C'è una pista da ballo spaziale Del cibo spaziale E ovviamente ci sono giochi spaziali Chi vuole giocare appassa il regalo Nello spazio! Sì! Quando si ferma la musica potete scartare uno strato del pacchetto Ecco a te Danny! Evviva! Oh no! Le mie mani robotiche non riescono a spazio! Oh non c'è problema Abbiamo tanti giochi per robot Come afferra la stella cadente Siete pronti? Sì! Pronti? Via! Ce l'ho qua! Lo prendo io! Lo prendo io! Ops! Facciamo un altro gioco Metti l'occhio sull'alieno Posso provare io? Mettiamo una benda Così non puoi spirciare Pronta? Vai! Scusa! Mi sta proprio bene Non c'è niente che gli astronauti E gli alieni E le stelle E i robot E le principesse Possono fare insieme Se tutti si allacciano le cinture Possiamo Decollare tra Tre Due Uno Oh sì! Io adoro volare nello spazio Questa! Un disco volante! A tutti piace l'autobus Delle feste Un alieno Con un robot E quello è un astronauta! E a tutti piace Spacciare nello spazio Oggi Peppa e la sua famiglia Sono al museo A una mostra Sui dinosauri Scusate Non volevo spaventarvi È così che i dinosauri dicono ciao Allora Volete vedere un dinosauro vero? Nella nostra nuova sala Si può andare indietro nel tempo E avere la sensazione Di incontrare i dinosauri 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 Credo voglia dire sì Grazie signora La sala del viaggio nel tempo Porta nel passato Quando i dinosauri Esistevano Attenzione Vogliamo essere certi Che viaggiate in tutta sicurezza D'accordo? Mani e piedi Devono restare dentro la macchina Per tutto il tempo Se volete guardare Da più vicino Potete usare Questi binocoli speciali E mi raccomando Non dovete calpestare Le farfalle Ma nessuno Calpesterebbe mai Una farfalla Signorina coniglio Non si sa mai Peppa Comunque Si parte La macchina del tempo Sta portando tutti A un'era in cui esistevano Ancora i dinosauri Tanto, tanto tempo fa Ci siamo Guarda Ha funzionato Certo che sì Nella giungla dei dinosauri Ci sono molte attrazioni Guardate Un vulcano E tantissimi Pterodossi di volanti Come sono belli Ma c'è soprattutto Una sola cosa Che George vuole vedere Dinosauro Dinosauro Arriverà presto Ma ricorda I dinosauri veri Erano molto più grandi Di quello George Siete pronti? Siete pronti? Oh, caspita Il dinosauro è più spaventoso Di quanto George Avesse immaginato È un po' scaduto Scusa George Il mio amico dinosauro Non voleva spaventarti È così che i dinosauri Dicono ciao Ti ricordi? Forse dovremmo ruggire Anche noi Per salutarlo Vero? Così capirà Che siamo amici E la cosa bella Dei viaggi nel tempo è Che possiamo Sempre tornare indietro Sei pronto Per riprovare George? Preparatevi Pronto George Uno Due Tre Ce l'hai fatta George George è molto contento Che Peppa L'abbia aiutato A prendere coraggio Lo vuoi fare di nuovo? D'accordo allora E George è davvero felice Di aver incontrato Un dinosauro Arrivederci Faccio attenzione Alle buche La prossima volta Chi è il prossimo? Oggi Peppa George e Mamma Pig Sono in visita All'autofficina La nostra auto È rotta Signor Toro Possiamo averne Una nuova Per favore O magari Possiamo ripararla Certo Accomodatevi In sala d'attesa Ci metto un attimo A ripararla In sala d'attesa Ci sono moltissimi giochi Guarda George Sembra proprio L'autofficina Di nonno cane C'è qualcosa Dietro la porta blu È un'auto blu Perché gira Quella parte Sarò subito Da lei C'è un camion giallo Dietro la porta gialla E una moto rossa Dietro la porta rossa Accomodatevi Arrivo subito Un'auto sportiva verde C'è molto traffico All'autofficina giocattolo Ci metto un attimo E anche nella vera autofficina Questo camion giallo Deve essere riparato La moto Deve essere lavata Parcheggiamo L'auto rossa Al piano di sopra Bipì Oh no L'auto rossa È bloccata Tra le altre auto È come un puzzle Da risolvere Muoviamo gli altri pezzi Per fare spazio Adesso possiamo spostare L'auto rossa Sì La vostra auto è pronta Di già Ecco qua come nuova Grazie Ma come facciamo A tirarla fuori? L'auto di famiglia È bloccata Tra le altre auto È un bel problema Sappiamo come fare Vero George? Proprio come Nell'autofficina giocattolo Buona idea Peppa Peppa e George Indicano al signor toro E a nonno cane Quali auto spostare Proprio come Nell'autofficina giocattolo Spostate il camion in avanti E la moto Indietro Adesso Mamma Pig Può spostare la sua auto Sì Abbiamo preso Un'altra buca Ma l'autobus delle feste È in panne E l'auto è bloccata Di nuovo Oh no Come faremo A tirarla fuori? Con il carro attrezzi Buona idea George Ma usiamone uno Ancora più grande Grazie Non c'è di te E adesso Come facciamo a rientrare? Peppa e George Amano risolvere puzzle Con le auto Oggi Peppa e la sua famiglia Sono andati al cinema A vedere un film Di avventura Papà Devo andare in bambino Andiamo allora Ops Scusi Allora Peppa È tutto a posto? Sì Eccomi Ho fatto Tadà Brava Torniamo al nostro posto Oh caspita Al cinema ci sono tante porte colorate E Peppa e papà Pig Non si ricordano da quale porta sono usciti Penso che siamo usciti da quella blu papà Ma nella sala con la porta blu C'è un film sulle sirene Susi Pecora lo sta guardando con la sua mamma Oh Peppa Ciao Susi Oh adoro le sirene Possiamo guardare questo film papà La prossima volta Oh guarda Una porta rosa Entriamo forza Non riesco a vedere mamma Pig e George Nella sala con la porta rosa Il signor toro e la signora mucca Stanno guardando un film romantico Lei lo ama così tanto Non era certo quella la sala Proviamo la porta gialla La porta gialla si apre sulla sala di proiezione Dove lavora la signorina coniglio Oh ma che sorpresa Cosa fate da queste parti? Siamo andati in bagno ma non ci ricordiamo più in quale sala stavamo guardando il film Qui è dove si proiettano i film E quindi non è il posto dove si possono guardare Ma tranquilli vi aiuto io a trovare la sala Il vostro era un film sui dinosauri? Per George sarebbe stato perfetto Ma non è quello che stavamo guardando Era un film comico? Forse la porta è questa No! Lì è dove teniamo il posto Ops! Scusi! Tranquilla! Ci succede spesso Questo è il nostro film! Presto papà! Grazie signorina coniglio! Oh ma dove eravate finiti? Ci siamo fermati per i popcorn Peppa ama guardare i film d'azione con la sua famiglia Ma le piace anche perdersi in avventure con papà Pig Quando sarò grande giocherò a calcio tutti i giorni Con i robot! Su un mascello pirata! Nello spazio! Oggi Peppa e i suoi amici creano un disegno che li raffiguri quando saranno adulti Che cosa hai disegnato Suzy? Questa sono io e sono sulla luna Farò l'astronauta e passerò tutto il giorno a saltare con i miei amici alieni Oh ma Susi se sarai sulla luna non potremo vederci Oh non preoccuparti tornerò tutti i giorni con il mio razzo E insieme faremo un bellissimo peppinico con gli spaventini Oh che sollievo! E tu invece George? Oh cielo! George non ha ancora disegnato niente sul suo foglio Puoi disegnare quello che vuoi George! Cosa vuoi fare quando sarai grande? Sarai un uccello? No! Sarai un pilota che sfreccia sul suo aereo! No! Sarai un super-eroe! No! Non capisco proprio Tutte queste cose volano! Quando sarai grande vuoi saper volare! Ma tu cos'hai disegnato Peppa? Io ho disegnato tutti noi! Quando sarò grande io sarò felice e circondata dai miei amici E sarò anche la più grande campionessa di salto nelle pozzanghere di fango del mondo intero e della luna Peppa e i suoi amici faranno tantissime cose diverse quando saranno adulti E gli piacerà sempre saltare nelle pozzanghere di fango Oggi i bambini sono al laboratorio di ceramica per la festa di compleanno di Gerald e Giraffa Signor Toro! Non sono stato io davvero! Ciao a tutti! Venite con me! Cerchi di non rompere niente, signor Toro! Potete dipingere qualunque oggetto in ceramica A vostro piacere! L'unica regola è divertirsi! Sì! Io voglio dipingere una tazza per mamma e papà! Oh! Anche io! Anche io! Eppure! Che idea! Gerald Giraffa è molto bravo a disegnare Oh! Sei bravissimo, Gerald! Grazie, Peppa! Che cosa disegni? Ehm... Disegno una giraffa anche io! Anche io! Eppure! Anche io! Tutti vogliono disegnare una giraffa Proprio come Gerald! Come si disegna una giraffa, Emily? Non lo so! Io sto copiando Susi! E io sto copiando Peppa! E io sto copiando Gerald! Tutti gli amici di Peppa Stanno copiando chi gli è vicino! Ecco fatto! Oh! Anche io ho finito! Sì! Anche io! Fatto! Mi è venuta storta! Anche la mia! Anche la mia! Storta storta! Perché il disegno è la copia di una copia! Vi divertirete di più Disegnando quello che vi ispira! Oh! 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 Fiu! Scusi! Io dipingerò questo! Somiglia alla barca del mio papà! E io dipingerò una ciotola per gli occhiali di mia nonna! Non so mai dove li ha messi! Io dipingerò una tegliera per la mia mamma! Con una grossa proboscia! E io dipingerò una pozzanghera di fango per il mio papà! Ognuno dipinge qualcosa di unico e personale! E tutti si divertono molto! Papà! Guarda il mio piatto! Guarda, nonno! L'ho fatto per te, papà! Che bello, Peppa! Somiglia proprio a una pozzanghera di fango! A tutti piacciono i loro regali in ceramica! Potrebbe imparare qualcosa nei segni dei bambini, signorina coniglio! Ma non è il mio? D'accordo! Questa volta non è colpa mia! Oggi Peppa è... Una scienziata? Benvenuti al Museo della Scienza! Ah! Peppa e i suoi amici sono al Museo della Scienza con la signorina coniglio! Mi serve il vostro aiuto per risolvere qualche rompicapo scientifico! Ora, dobbiamo capire come costruire un ponte per questa macchinina, usando soltanto questi materiali! Oh, che cos'è? Guarda quante cose! Boh! Oh, Sticky! Sarò il più veloce a costruire il ponte! Oh! Forse ci vuole qualcosa di più resistente! Oh, un cubo! Secondo me ci vuole qualcosa di più leggero così che galleggi! Proviamo con questi! Peppa sta provando a usare gomma piuma per costruire il ponte! La gomma è così leggera da galleggiare, ma sorregge il peso dell'alto! Eureka! Cosa vuol dire Eureka, signorina coniglio? Oh! Noi scienziati esclamiamo Eureka quando facciamo una scoperta! Provate anche voi! Oh! Eureka! Il prossimo rompicapo è sui colori! Cerchiamo di scoprire tutti insieme come far diventare Madame Gazella verde! Oh! Oh! Sei diventata blu! Oh! Dobbiamo trovare una lente verde in cui guardare! Oh! Oh! Ehm... Ma non ci sono lenti verdi! Ma con il giallo e il blu si ottiene il verde! Oh! Ehm... Esatto! Mescolando i colori se ne possono ottenere altri! Peppa e i suoi amici sono pronti per l'ultimo rompicapo scientifico! Possiamo fare lo scivolo, signorina coniglio! Sì! Dobbiamo capire quale tra gli scivoli è il più veloce! Dividetevi in coppie! Peppa e i suoi amici prendono un sacco per coppia e scelgono lo scivolo! Pronta! Via! Lo scivolo con l'erba è troppo ruvido per essere veloce! Ta-ta-ta-ta-ta! Lo scivolo con il tessuto è ancora più ruvido e ancora più lento! Pronti! Ma lo scivolo in plastica è molto liscio e quindi è molto veloce! Bravissimi! Avete risolto tutti i rompicapo! Nelle scienze si dice fare un esperimento e come si dice quando si è trovata la soluzione? Madame Gazella, come facciamo a scendere? A tutti piace fare esperimenti! Oggi Peppa e i suoi amici sono in piscina! Cosa farò con voi due? È il momento di tuffarsi in piscina! Cosa sono quelli, Peppa? Sono i miei occhialini! Mi aiutano a vedere sott'acqua come una sirena! Ta-da! Puoi indossarli per il nostro gioco di oggi! Si chiama Qua Qua Honk! Come si gioca? Allora, un giocatore è il fenicottero! Zoe, sarai tu il fenicottero! Sì, sono il fenicottero! E tutti gli altri sono papere! Bravissimi! Ora tutte le papere nuotano nella piscina e quando il fenicottero dirà Honk... Honk... Vuol dire che sta per catturare una papera! Chi verrà catturato dovrà fare il fenicottero nel turno seguente! Pronti? Via! Tutti si divertono a fingere di essere papere! Ma adesso il fenicottero Zoe sta venendo a prenderlo! Sì, ti ho preso, Ger! Oh no! Adesso, Gerald Giraffa è il fenicottero! Honk! Dove siete, paperine? Qua 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 qua! Ti ho preso! Peppa e i suoi amici si divertono moltissimo a giocare acqua acqua a Honk! Dov'è il fenicottero? Non voleva dire... Qua qua qua! È il tuo turno come fenicottero, Peppa! Qua qua! Sì, signorina coniglio! Come facciamo a sapere chi ha vinto? Ti ho presa! Per quello ci vuole un altro gioco! Si chiama Gelatina sul piatto! Forza, salite sopra! Chi cade per ultimo in acqua vince! Tutti salgono sul galleggiante! Ma è molto traballante! Proprio come... C'è la Gelatina! C'è la Gelatina! Che traballa che traballa! Che traballa che traballa! Siamo caduti di sotto! Allora vuol dire che... Tutti abbiamo vinto! A tutti piace giocare in piscina! E a tutti piace vincere insieme! Oh cielo! Qualcuno ha rubato il mio cappello a fiori! Salve, signora Dolly! Sono l'agente Teddy! Arrivato in soccorso! Peppa e i suoi amici giocano a guardie ladri con i loro giocatori! Non sono caduta io! Io non ho fatto niente! Sono innocente! Sei tu il ladro, signor Robot! Ti dichiaro in arresto! No! Adesso ti metto in prigione! Grazie, agente Teddy! A te ti piace fare il poliziotto! Ma non so più con cosa giocare adesso! Oh cielo! Prendo le macchinine! Adesso tutti i giocattoli si preparano per una gara! Terma! Stai andando troppo veloce, Ranocchietta! Ti dichiaro in arresto! Oh! Bip! 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 Ma Ranocchietta era in testa alla gara! Adesso il gufo di Susie sta servendo il tè... Ecco il suo tè, signore! Il dinosauro di George! Nonno! Questo tè è troppo caldo! Ti dichiaro in arresto, signora Dolly! Ma non mi piace la prigione! E ora il dinosauro di George sta giocando... Tutto da solo! Dinosauro, sei troppo disordinato! Ecco cosa sei! Ti dichiaro in arresto! Dinosauro! È stato divertente! A che cosa giochiamo adesso? Oh! Dove sono i vostri giocattoli? Oh cielo! Gli amici di Peppa non sono molto contenti! Non era nostra intenzione farvi arrabbiare! Cercavamo solo di aiutare! Forse dovremmo andare noi in prigione! Oppure... In prigioni non ci va nessuno E tu e l'agente Teddy potete aiutare gli altri Proprio come fanno i veri poliziotti ogni giorno! Ottima idea, mamma! L'agente Teddy è al vostro servizio! L'agente Teddy aiuta tutti quanti a gareggiare in sicurezza! Ai vostri posti! Pronti? State molto attenti! Via! A godersi una tazza di tè! Vorresti un'altra tazza di tè, Anocchietta! Adesso non scotterò più! Grazie, agente Teddy! E naturalmente a indossare tantissimi cappelli a fiori! Oggi Peppa e la sua famiglia sono alla palestra per arrampicata! È tutto piuttosto alto, non trovate? Magari andrò con Giorgia a provare alcuni percorsi più semplici! Sì! Ma qua ha paura delle altezze, signorina Coniglio! L'unica cosa importante è divertirci! Ma con le imbracature e i caschi potete stare assolutamente tranquilli! Allora saremo io e te, Peppa! Evviva! Vieni, mamma! Il primo percorso della palestra è uno scivolo molto alto! Oh! È lo scivolo più alto che abbia mai visto! Sì! Come facciamo a salire, signora Coniglio? Sedetevi in fondo allo scivolo e stringete il manubrio! Tieniti forte! E verrete trainate in cima! Quando volete scendere lasciatevi andare! Dobbiamo lasciarci? Sì! Buon divertimento! Peppa e mamma Pig salgono sempre più in alto sullo scivolo, finché raggiungono il punto più alto! Magari ti lanci prima tu, mamma! Potremmo contare fino a tre e scendere insieme! Va bene! Uno, due, tre! Papà, vieni a provare! È molto alto! Oh no, grazie! A me, George, piace fare questo! Non è così! Il prossimo percorso è su dei pilastri ondeggiati! Bisogna essere molto agili per non perdere l'equilibrio! Ma se dovete cadere, le fune vi sorreggeranno! Non c'è pericolo! Non è che sia proprio facilissimo! Mamma! Evviva! Ce l'ho fatta! Bravissima Peppa! Papà Pig e George si divertono su dei pilastri ondeggianti più piccoli! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Peppa e Mamma Pig sono arrivate alle pareti per gare di arrampicata! Chi arriva per primo in cima e preme il pulsante, vince! Tutto a posto, Peppa? Penso di avere anch'io paura delle altezze, mamma! Oh, tranquilla! Possiamo scendere se vuoi! Oh! Volevo tanto premere il pulsante in alto! Oh, Peppa! Dovresti essere fiera di aver provato! E puoi sempre provare di nuovo la prossima volta! Oh! Mi hai battuto di nuovo, George! Peppa, perché non provi a fare a gara con George su questa parete? Arriva! Anche questa è divertente! E non fa paura alla sua altezza! A Peppa piace la palestra per arrampicata! A te mi piace la palestra per arrampicata! Oggi, George e papà Pig sono al supermercato! Che bella escursione extraterrestre nel vuoto cosmico! Ma dov'è, mamma Pig? Doveva venirci a prendere in macchina! Beh, mentre aspettiamo, tanto vale approfittarne per fare un giro sul razzo! E intanto, faccio una telefonata! Peppa e mamma Pig sono in viaggio verso il supermercato, ma sono bloccate nel traffico! Stop! Via! Stop! Via! È come una giostra! Via! Ciao, papà Pig! Stiamo arrivando, ma ci sono dei lavori in corso! Stop! 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 George, perché non proviamo le altre giostre mentre aspettiamo? Sì! George si diverte a saltare sulla giostra e Peppa si diverte a saltare in macchina Le giostre e l'auto fanno il girotondo Giro girotondo, giro girotondo Vanno su e giù Dino, saero! Finché finalmente... Oh! Siamo arrivati! Sì! Finalmente! Ciao, papà! Ciao, George! Ciao! Ciao! Scusate il ritardo Non c'è problema George si è divertito molto a saltare, girare e sobbalzare sulle giostre Ma ora dobbiamo andare a casa, George Oh, cielo! George non vuole andare a casa Si sta divertendo troppo sulle giostre Non preoccuparti, George Il viaggio in macchina è altrettanto divertente Puoi girare intorno E sopportare A George piace tornare a casa in macchina dal supermercato A tutti piace tornare a casa in macchina dal supermercato Oggi Peppa e Susi giocano nella casa sull'albero Oh, ciao Susi! Entra pure, vieni! Oh, grazie! Sei gentilissima! Giocano a fare le adulte Adesso ci beviamo una bella tazza di tè Oh, è proprio brutto il tempo oggi, non è vero? Qualcuno ha bussato alla porta Scusate l'interruzione La tua mamma è venuta a prenderti, cara Susi! Oh! Ma stavamo bevendo il tè proprio come fanno gli adulti Possiamo fare un pigiama party nella casa sull'albero? Ti prego! Certo che potete! Tu e Susi potete dormire nella casa sull'albero E io e nonno pigi dormiremo in una tenda qui sola Peppa e Susi sono molto felici di dormire nella casa sull'albero Ecco i vostri sacchi a pelo E un sacco di morbidi peluche E la cosa più bella Una lanterna stellata speciale Ho finito! Chissà cosa serviranno questi Anche nonno pig è felice di dormire in tenda Forse mi sono sbagliato Ma prima deve rimontarla È ora di andare a letto Quindi nonna e nonno pig entrano nella tenda Buonanotte tesorini Noi siamo qui se avete bisogno Guarda Susi! La mia ombra è grandissima! La mia è un uccellino E la mia è una farfalla Ha un rumore fortissimo! Nonna pig! Vieni sull'albero! C'è qualcosa che non va? Abbiamo sentito un rumore forte! Come? Santo cielo! È un mostro! Non c'è nessun mostro! È il nonno pig che sta russando Peppa e Susi amano dormire nella casa sull'albero Anche con nonno pig che russa nelle vicinanze Peppa è al negozio di palloncini con la sua famiglia Per ritirare un palloncino speciale per una festa in giardino Signorina coniglio! Possiamo ritirare il nostro elegantissimo palloncino e gola... Che bello! Il negozio di palloncini è pieno di palloncini Signorina coniglio! Oh, mi avete trovata! È da martedì mattina che mi sono persa tra i palloncini Ma sarà ora di pranzo ormai? È mercoledì, signorina coniglia Comunque, ecco tutti i vostri bellissimi palloncini riciclabili Pronti per la festa! Tutti questi? Ma ne avevamo ordinato solo uno! Qui c'è scritto Mille palloncini per la festa di mamma pig! Non ce ne servono così tanti E non voglio sprecarli Come facciamo adesso? Io lo so, li possiamo regalare Peppa e la sua famiglia Regalano i palloncini in più a tutte le persone che incontrano Uno a te Oh, grazie! E ne do uno anche a voi due Ecco a te Palloncino rosso Uno verde a te Preso Ne mancano solo 992 Non ce la faremo mai a darli tutti Oh, oh! E dobbiamo andare a preparare la festa! Mi è venuta una grande idea! Prendete qualche palloncino e venite con me! Oh, grazie! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! È l'ora della festa! E tutti gli invitati iniziano ad arrivare! Ciao, Susy! Ecco il tuo palloncino! Oh, oh! Grazie! La signorina coniglio ha usato i palloncini per trasformare la festa in giardino in una festa di palloncini La signorina coniglio sa fare qualsiasi cosa con i palloncini O chiunque! Ecco a te! È proprio come me! E questo assomiglia a me! Inizia la gara di palloncini! Non preoccuparti se un palloncino scoppia perché ne abbiamo tantissimi altri! Tutti avrebbero amato la festa in giardino di mamma Pig Ma tutti amano ancora di più la festa di palloncini Il treno dei tesori sta arrivando! Ciu ciu! Sì! Peppa Pig e Danny Cane sono alla guida di un treno pieno di lingotti d'oro Di argento e... Broccoli! I broccoli sono preziosi? Sì! Sono broccoli speciali fatti di diamanti scintillanti Peppa e Danny non stanno davvero guidando un treno Stanno usando la loro immaginazione per giocare Urrà! Fermi! In nome dei... Ladri! Oh no! Pedro, Pony e Susy Pecora stanno fingendo di essere dei rapinatori Ridateci subito tutto il vostro tesoro! Per favore! No! Oh! Va bene! Siete voi che dovete rubare il tesoro, Susy! Siamo riusciti a rubare tutto il vostro tesoro! Adesso che cosa facciamo? Potete scappare! Oh, giusto! Andiamo! Yuhu! Ehi! Tornate qui, ladri cattivi! Ora, Peppa e Danny fingono di essere dei poliziotti Cattureranno i due ladri! Tutto! Sì! Oh! Ci avete acciuffato? No, invece no! Perché... Ehm... La vostra barca può volare! Oh! Madame Gazzella, le barche possono volare! Le barche vere non possono volare! Oh! Ma quelle immaginarie ci riescono e come! Evviva! Ora, Pedro e Susy sono su una barca volante! Oh! Ehm... Ah, sì! Anche il nostro treno può volare! Ui! 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 E' un gigante! No! Lui è papà Pig! Ed è venuto per portarti a casa! Carica! Ui! Ui! Cosa state facendo? Stiamo guidando delle barche e dei treni volanti, papà! Oh! Accidenti! Quanta immaginazione avete! Peppa adora usare l'immaginazione! Tutti adorano usare l'immaginazione! Yuhuu! Luce rossa! Peppa e i suoi amici giocano a scatta il rosso, scatta il verde! Verde! Se sentono dire rosso, devono restare immobili! E quando sentono verde, possono ripartire! Rosso! Fermi! Peppa e i suoi amici si sono fermati all'incrocio! Le luci aiutano ad attraversare in sicurezza! Forza, semaforo! Non è sicuro attraversare finché la luce non diventa verde! La luce è verde! Guardiamo! Ascoltiamo! Andiamo! Verde! Rose rosse! Ha detto rose rosse, non luce rossa! Ora, mamma Pig e papà Pig fanno degli scherzi con parole diverse! Veramente bravi tutti quanti! Rosmarino! No, George! Dobbiamo stare fermi! Sei sicura? Ho detto rosmarino! Non rosso! Mi gira la testa! Giorgio non sa rispettare le regole! Non preoccuparti, George! Ho un compito speciale per te! Oh! Ho un'idea! Al prossimo verde facciamo al che arriva prima all'albero! Sì! Verde! Rosso! Vai, George! Il compito speciale di George è chiamato il giullare! Deve fare ridere tutti quando sono immobili! Me l'hai fatta! Sei un ottimo giullare, George! Verde! Ci sono pochi! Rosso! Salve a tutti! Che succede qui? Salve, agente panda! Giochiamo a scatta il rosso scatta il verde! Il mio gioco preferito! Rispettare le indicazioni del semaforo è molto importante! Anche le auto e le biciclette si fermano col rosso e ripartono col verde! È una sfida restare immobili con questo piccoletto! Ciao! C'è una bella quiete quando sono immobili! Oh, sì! Quasi quasi non dirò mai più verde di nuovo! Ha detto verde! Peppa adora giocare a scatta il rosso scatta il verde! A tutti piace giocare in questo gioco! Andiamo, squadra supermercato! Io ho preso il carrello! Io ho la lista della spesa! TINOSAURO! TINOSAURO! E' VIVA! Oggi Peppa e la sua famiglia sono al supermercato! Mamma, perché non ci fermiamo mai? E perché la tua borsa fa questo rumore? Eccoci arrivati! Oh! Oggi facciamo la spesa in una parte speciale del supermercato, il reparto sfusi! Ma dove mettiamo il cibo che compriamo? Aha! In questi! Nel reparto sfusi le persone portano i loro contenitori e li riempiono con il cibo! Bene, squadra! Io e papà leggiamo la lista! Peppa e George, voi riempite i contenitori! Pronti? Sì! Sì! Una volta finito, il premio sarà... IL PRANZO! Sì! La prima cosa da prendere è... IL RISO! Trovato! George, ci serve un contenitore per il riso! Quello è per le uova, George! Oh cielo! Peppa e George hanno messo il riso nella scatola delle uova! Che altro? Oh! Adesso i cereali! Quella non è la bottiglia del latte? È perfetta, George! Ne sono caduti pochissimi! Gnam gnam gnam! Grazie per aver pulito, dinosauro! Ora abbiamo il latte! La bottiglia del latte è già stata usata per i cereali, quindi nessuno sa dove mettere il latte! George pensa che dovrebbero usare il cartone del succo! Ottima idea, George! E poi? Ora c'è... Il succo d'arancia! Ma Peppa e George hanno messo il latte nel cartone del succo! Usa la busta per il riso, George! Oh! Bli blab, 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 blab... Ora ci manca solo la pasta! Oh! Vai! Ah! Questa settimana mangeremo un sacco di pasta! Ora devono portare tutto il cibo alla cassa e pagare! oh quante cose avete preso allora abbiamo una scatola per uova di riso una bottiglia di cereali un cartone di latte un sacchetto di pasta e una busta di succo d'arancia il solito insomma dinosauro il dinosauro di Giorgia ha mangiato dei cereali da terra oggi Peppa e la sua famiglia vanno a una gara di torte per la festa del paese non vedo l'ora di assaggiare le torte della gara che ci fa qui una scarpa? non è una scarpa è la mia torta Peppa questa è una gara in cui ognuno fa delle torte che sembrano altre cose ma nonna se le torte sono fatte come torte la gente si confonderà esattamente allora Peppa vuoi aiutarmi a scegliere la miglior torta che non sembri una torta vera? sì! che bello! Peppa cerca di ingannare papà Pig con una torta che sembra un telefono è una torta è molto divertente vuoi per caso una tazza di tè mamma? sì grazie questo tè è fatto di torta la torta ti ha ingannata congratulazioni per la carota più grande grazie mi dispiace ma il premio era per la carota più grande non per la torta a forma di carota ma è un'ottima torta a forma di carota adesso il signor toro deve assegnare il premio per la miglior torta che non sembra torta la miglior torta che non sembra torta è questa a dire il vero è il mio pranzo oh ma certo è vero in tal caso la vincitrice è questa è molto realistica no ma lui è George alla fine ci sono cascato allora la vincitrice è questa mamma pecora ha vinto il primo premio questa sembra una torta al cioccolato ma in realtà è alla fragola Peppa puoi passarmi il trofeo? sì ecco il trofeo anche il trofeo è una torta e ora tutti mangiano le torte a tutti piace mangiare torte che sembrano altre cose dove avrò messo il mio cappello? e a tutti piace cadere in inganno oggi Peppa e la sua famiglia sono al museo delle scienze non vedono l'ora di visitare la sala delle calamite oh oh queste non sono calamite sono pesci questi sono pesci di metallo Peppa così noi possiamo pescarli con le calamite oh le canne da pesca proprio come sulla barca di nonno Pig state attenti le calamite attirano diversi oggetti Peppa e George stanno pescando tanti pesci di metallo e occhiali di metallo chiavi di metallo e tanti altri oggetti di metallo posso riavere il mio orologio per favore? grazie mille ciao 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 ecco qua non ancora usate le calamite per spostare lo slime magnetico fino alla fine della testa quale slime magnetico? forse dobbiamo salire qui sopra per avere lo slime ecco le calamite punti via lo slime contiene del metallo e per questo si attracca alle calamite vinco io vinco io non ho visto chi ha vinto che cos'era? guarda George ma cos'hanno a che vedere queste foto con le calamite? la lavagna contiene magneti e piccoli pezzi di metallo perciò ci si può disegnare hai molta fantasia George che ne pensi papà? sono proprio bello oh no di nuovo tutti amano imparare cose nuove sulle calamite al museo beh tutti tranne papà pig ciao oggi peppa va a casa di rebecca coniglio ciao ciao oggi peppa è già arrivata a casa di rebecca coniglio è venuta per giocare a un nuovo videogioco chiamato il raccogliettore di carote ti va di giocare? sì grazie sono incredibilmente molto brava a giocare con questo videogioco santo cielo peppa non sa come inserire il cd sì in effetti sono molto brava a giocare con questo videogioco ma penso che ci divertiremmo di più se iniziassi tu a giocare rebecca oh sì lo sapevo come si fa prima scegli il tuo coniglio poi saltelli in giro e raccogli le carote oh sì peppa è incredibilmente brava con i videogiochi ma forse per questo ha bisogno di una mano e sai come si raccolgono le carote rebecca? guarda così evviva! adesso ho capito tocca a me Rebecca coniglio è incredibilmente molto brava a questo gioco oh sei molto brava a raccogliere le carote rebecca ho solo fatto molta pratica ti va di giocare insieme adesso? possiamo formare una squadra? sì! oh oh presa! presa! ne ho una! ui! caro! ecco nuovo record peppa e rebecca formano un'ottima squadra rosy! robbie! che state facendo? ciao piccole avete visto le gemelle? hanno preso il pranzo adesso ci pensiamo noi siamo brave a raccogliere i carote e piccole conigliette trovata! rosy! ti ho presa! robbie! robbie! ti ho presa! è ancora buona! peppa e rebecca sono molto brave a raccogliere carote sì! evviva! il pranzo è salvo! insomma peppa e rebecca sono incredibilmente molto brave a raccogliere carote nonna pig non vede l'ora di scoprire la sua grande ed emozionante sorpresa buon compleanno! oh ma che bello! guarda nonna! devi soffiare la candelina ed esprimere un desiderio oh sì! oh ma prima dobbiamo cantare la canzone degli auguri ma certo! canca auguri a te canca auguri a te oh cielo ha iniziato a piovere proprio sopra le loro teste forza ripariamoci! peppa e la sua famiglia decidono di continuare la festa nella serra a riparo dalla pioggia molto meglio! almeno così non ci bagniamo e la candelina è ancora accesa oh è vero! ora soffio la candelina ed esprimo un desiderio ma prima dobbiamo finire di cantare la canzone degli auguri tanto auguri a te tanto auguri a te tanto auguri a te oh su quel tramezzino c'è una lumaca forse la serra non è il posto migliore dove mangiare per fortuna ha smesso di piovere presto torniamo fuori la festa della nonna si è spostata in giardino sotto l'albero di mele di nonno pig gelatina la mia preferita tanto auguri a te tanto auguri a te ma noi stiamo celebrando una festa di compleanno signor toro non preoccupatevi farò presto al massimo due settimane io ho un'idea coraggio venite con me nonno pig ha deciso di continuare la festa nel volaio ciao giannino sara vanessa sono felice che partecipiate possono cantare anche loro la canzone degli auguri stocchi attenti i capellini il vento ha buttato a terra tutto il cibo e le decorazioni oh noi volevamo fare una bella festa di compleanno per te e che esprimessi un desiderio oh peppa io voglio solo passare la giornata con tutta la mia famiglia e questo è il mio unico desiderio davvero? sì e quella torta a quanto pare ancora buonissima sì nonna pig ama festeggiare il suo compleanno in giardino ma più di ogni altra cosa ama festeggiarlo con la sua famiglia grazie a tutti grazie a tutti